si si, perchè veniva con i dita i bongo si si, facendo c'è solo gasmash giriamo messa e si? no, su ultimi non si può fare purtroppo match, match, no dai, let's go si, non mi raccontare, la cosa è capito di si abbassi minimo, ma non spado sa la qualità che è 180 secondo me se mettiamo a 720 che comunque bello va meglio no? no, tanto il commento del suo che se tocco qui è boh, è la fine quando c'ho io? se vuoi cuocere l'uovo, letteralmente se puoi cuocere tutto il carro è là sopra è d'alluminio boh ma stai stimando a 180p eh? e c'è il 180p stream comunque rampo, quando hai un attimo comunque rampo, quando hai un attimo vai al tiger e venghi paulino my boss del pegaso attenzione, comunque subito battiamo e bello subito lo spycone ok, ma dico che sei te a posto se battiamo sul neutralino ho il neutralino, niente, se batti subito perchè lo devo fai io? perchè lo devo fai io? è molto più sacrificabile no, non so sacrificabile c'è una carriera da streaming appena cominciata che non voglio rinunciare eh vabbè io c'ho una carriera da pro player da pro player che appena cominciato eh allora Matteo si è sacrificabile Matteo si è sacrificabile già Bowser è il tipo obiettivo questo cerca le deck face assurde oh mio dio raga Gandix, senti usa Donkey Kong che è low tier per me è il Donkey Kong è un Donkey Kong è un Donkey Kong che ne dici di questa skin? scelta delle skin le skin nera a me se mi piacciono le Donkey Kong grazie ci sta la gente che lavora ci sta la persone che muoiono quel coronavirus non credo perchè erano mi sa che erano cose difficile fuoco nell'ambulanza quindi vabbè comunque ti giuro che i costumi di Donkey Kong erano bellissimi di Smash 4 Bracket con punto esclamativo hai scritto male Ring e comunque grazie per la risposta su Twitter TM non mi cercavi su Twitter che non esistono più no perchè avevo scritto sotto la classifica del weekly del GAS ho scritto che Ring TM mi faceva ridere l'ho scritto non è TM Ring piccolissimo sopra TM ah esiste risolvono dalla Bracket ma non credo che era una richiesta grande cista cista sempre grande che aiuta la streaming anche quando non serve si sta mettiamolo molto su si servono i comandi però serve appena ai poche penso io eh merda so male si no fa male comunque attenzione stavolta 10 notte che mi sa non lo so eh sai che qui è una situazione un po' immagina critica ma immagina quel telefono che vale 4 volte il tuo computer dunque parla molto bene se no vedevo troppo fastidio non so ti preoccupa attenzione chi è che vince di più secondo te si fa eeeh perchè fa come Donkey che fa Ding Dong entrambi hanno delle buone tech chaser su questo si però invece Donkey eh Donkey sta abbastanza in vantaggio sai perchè puoi fare la può fare Finto Ding Dong il Finto Ding Dong ci sta si infatti U uuuu cosa c'è una bananà aspettiamo uuuu lancione uuuu visto è la richiesta solo che l'ha scritto vale uh oh stiamo proprio in un attimo la situazione abbastanza critica adesso Tiger fa tipo una mossa col fai il salulo di emu uuuu tanto ce la ricco allora ok ok ti dirò che si faceva tipo 80 e li faceva servile inuriva aspettiamo un attimo faccio una corsa allora, 1-0 per i gang Tiger, Caval chiede ma Tiger, i voti del Vegas banniamo la la chat banniamo la la chat bannare la Caval ma Tiger, i voti del Covid Smash ma Tiger, i voti del Covid Smash uno dei due anni fa stiamo a uno per il Pianco Tiger, il suo lavoro, non carica niente bagniamo Raffa il Covid Smash il Covid Smash è arrivato il top 3 ma è quello online? è online, primo Mega, secondo Mario Netta terzo insieme a un altro io appena lo si vede un paio ho detto non fa per me, nè Paul Online, nè Paul Online, nè Paul Já o Offline, siamo una certa situazione devi cambiare PG Online, io uso Lucas PG Online è sì non so, tanto non è troppo Print Perfect Print Perfect se partiti subito a tanto fare no, ok niente, Caval ha chiesto dei voti del Vegas Tiger, i voti del bannarlo e niente, ha vinto Galis ok, però chi ha vinto? ha vinto Galis ha vinto Galis ha vinto Galis ha vinto Galis oh no, match doubles match bio tempio di palutera tu che è piccolissimo c'hai, non ce li ho fa a fena tu che è piccolissimo c'hai gli occhiali io non ti vedo male devo mettermi gli occhiali io da qua non leggo la cacca si, siamo molto a porti siamo molto a porti si, giro che da qua non leggo la cacca siamo 2k, quindi mi ci porti NEDDO! ahahahahah 2k, vantaggio se minchia qui boh neanche la commento neanche la commento non sai che è successo proprio tutti felici finché, finché, finché even finisce prima il massacro allora, allora ricordiamo col punto d'un dong il punto d'un dong bellissimo un altro no uuuuuh secondo te qual è la debolezza del donkey kong di ganna? non c'è non c'è è così forte che non c'è o forse si c'è non c'è un player più forte ecco c'è c'è no che delle stage controllo troppo ahi avevo sempre fatta la mascherina tra le fare l'apparecchio eh sta accendo sta accendo attenzione uh recupera io la faccio no ok è la mia e vediamo Mario la stessa volta ok guarda che tanto sei sul video se l'avrei già dato però infatti sei però uuuuuh 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 mini t-back se hai visto lezzo proprio mini t-back ma mamma mia allora ma dai dai vogliamo 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 un nuovo AB AB random qui tiger ha detto proprio no mi sto stancando non mi faccio fa il culo anti gong non mi faccio fa il culo anti gong però ad attenzione ecco vediamo vediamo dai ancora ancora tutta vera dai è l'opinione l'opinione ok che ancora abbiamo un altro match quindi insieme a Luigi è il personaggio peggiore e migliore del gioco alla stessa età insieme a Luigi specialmente Luigi Luigi no no Luigi è il percorso migliore peggiore del gioco allo stesso tempo incredibile incredibile oh attenzione uuuuh attenzioni il culo da donkey kong non so che fare ok ok vi ho un po' quasi da aia un'altra un'altra una cosa che mi piace è che se il nintendo è stata quattro mi ha sprecato dei poligoni per modellare il culo di donkey kong conoscenze di raffo e subito dopo vince lo so tiger 1 a 1 dai adesso gli viene il pop up in mezzo allo schermo adesso schermo il my bot di Pegaso Caval che acca la console Luigi è il male Luigi è il male Luigi è il male Luigi è il male a parte le mod con le mod gli togliamo la grab ok bene facile così facile chi sta che Luigi l'hai visto ma chi sta che lì sta dentro una roba eh hai visto oh ragazzi raga facciamo per tutta la famiglia time zap oh aspetta almeno un attimo qual è il gioco rapo baffo la cosa di rapo baffo quando ho giocato l'amongasso c'era una e quello che è stato mi scappa ho visto visto rapo baffo hai visto un screenshot hai visto tutti quelli che si insultano al match eccoci qua 1-1 su su si batte subito neutralino e si rompe subito cominciando con un paio vai e tieni dei colpi su batte lo spike sarebbe stato super alto all'inizio è successo il match primo quindi furi raffo comunque dicono furi raffo no no ecco per favore userei tipo Ducario qua il poker non ti piace più usare a parte Jigglypuffer vabbè Pitcher secondo io Zard Zard mi piace questo gioco io Greninja o Pitcher Pitcher no no Pitcher si ah Pitcher rapido Pitcher Pitcher i ratti di me non mi piace molto i ratti di me è sempre stato qui sempre a parte di come si è in 74 vabbè i mili broker in ultimate broker si è stato no quella è la grada o qua proprio non vuole lasciarla quella stopper senza prima fa almeno gli stessi danni infatti ero se ne ho fa un colpo lo recupero qui ganni doppia sta per doppia il tiger mamma mia come se non lo vuole lasciare come se non lo vuole lasciare quello che ha sentito proprio vediamo un po' ora a tiger come potrebbe chiedere come potrebbe chiedere la stock come potrebbe chiedere la stock tiger eh lo sfile che non funziona non funziona potrebbe fare uno smash size d spectro maker ma non lo fa perché questo è proprio danno mentale proprio questo è il classico danno mentale psicologico psicologico proprio totale chi è sciogico come nest si nessone proprio oh mamma mia dk logico poi non riesce sto sotto ci si sa più che non sarò stelle special non so quanto possono servire adesso hai capito stai calmo non ce la faccio 69 vediamo un po' ci si niente 169 madonna però eh ah no il cx non è lui vuole tu ne scuole tu 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 lo 5 stoccava con nest no sbaglio 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 c'è la bestia 5 commenti non ti preoccupava vai giocare la nostra no è la vostra è la vostra no 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 solo meglio 2 a 1 3 a 1 allora vediamo un po' si sta scendendo lo stage qui si sta scendendo lo stage salutiamo Raffo che appena sparì dove gioca contro Time's Up Toxeraf attenzione stiamo a livello incredibile allora intanto oggi lo sponsor è l'università di Camerino è l'università di Camerino siamo un po' indecisi questi stage si è scelto Yoshi Yoshi attenzione guarda Iker ce la fa un bel vediamo qua che venite da fuori sempre da un ki-kong bene poi ti deve dominarla questa partita se vuole è una speranza di vincere anche sto match piuttosto certa allora si fatte subito un po' di missa dei colpi entrambi ok piccola combo come trovo ma niente recupera subito ovviamente don ki-kong è incredibile come riesce subito recupera ogni singola l'hanno fatto ok missa per fortuna fortuna missa però attenzione Ding Dong anche sto bene oh spai-kone attenzione recupera si porta in vantaggio ha missa la 6b qua Ding Dong missa perché queste troppi danni è un po' strana attenzione legge e si recupera subito 2 a 2 allora qui un altro per il danno defere però attenzione combo throw a per 2 a per tremano quindi 69 86 attenzione attenzione qua ha fatto una bella serie di colpi vediamo un po' se fai che riesce subito a più può essere in vantaggio bello netto perché c'è una bisogna in questo match ah tech chase attenzione prendi no niente uuuuuh attenzione hai che c'è una bisogna in testo le va subito sta stock perché se no è finita ok bella attenzione riesce a prendere finalmente questo IP mamma mia per pochissimo near non basta finalmente con questo IP riesce a ucciderlo dopo tutti questi tentativi finalmente ce la fa e ora abbiamo l'1 a 1 vediamo un po' abbastanza even raga ho appena detto ho appena detto abbastanza even il frame dopo il frame dopo 3 a 1 bandix si porta